Ci sarebbe una vicenda legata alla droga, l'origine dell'accoltellamento avvenuto qualche notte fa a Piedimoliera. Un atto compiuto da due uomini, entrambi di nazionalità italiana, accompagnati da una donna, nell'alloggio abitato da un ventenne italo-marocchino e dalla compagna sui 30 anni sudamericana. I due sono stati malmenati, il ventenne è stato addirittura raggiunto da una coltellata al braccio. Subito sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari, specializzati nei rilievi scientifici, hanno raccolto varie tracce, tra cui il sangue dell'uomo ferito. Sono in corso le indagini, ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di una sorta di spedizione punitiva per della droga non pagata. I due responsabili hanno sfondato la porta, sono entrati nell'alloggio in piena notte. Molti i vicini richiamati dalle sirene che hanno assistito alla scena dei rilievi.